Oggi in questa puntata di Pianeta Salute seguiamo un argomento molto interessante perché scopriamo quanto lavori la ricerca per terapie sempre più a misura di pazienti e in particolare per pazienti con carcinoma mammario e con linfoma nonocin c'è la nuova terapia per la somministrazione di anticorpi monoclonali sotto cude e allora si che cambia la vita. Riduzione dei tempi di somministrazione addirittura da 95 minuti, dei tempi di attesa in ospedale, della permanenza nei dei hospital e col miglioramento della qualità di vita del paziente non solo perché si riducono di oltre 60 milioni di euro i costi sociali per le terapie sui pazienti con tumore al seno e linfoma nonocin e si parla di innovazioni terapeutiche come gli anticorpi monoclonali che con la somministrazione sottovuti sono sempre più a misura di paziente. Professoressa noi sappiamo che tante, tante, tantissime donne purtroppo hanno avuto il cancro, hanno il cancro, soprattutto al seno, sono in cura, hanno subito terapie. Ma diventa difficile per queste donne poter fare, seguire le terapie oncologiche e poi avere anche la famiglia o ancora il lavoro. Ecco, quindi questa innovazione è veramente speciale. Allora, diciamo così, innanzitutto parliamo di una cosa importante che il farmaco è stato effettivamente un farmaco rivoluzionario perché ha significativamente modificato in associazione alla chemioterapia e alla terapia ormonale la prognosi delle nostre pazienti che nel momento in cui esprimono questo recettore ER2, che è il recettore nei confronti del quale gli anticorpi monoclonali, parliamo del trastuzumab e del pertuzumab, sono diretti, hanno fatto sì che la prognosi di queste donne, inizialmente così severa, venisse ricondotta ad una prognosi decisamente più favorevole. E questo, diciamo, ha costituito l'aspetto rivoluzionario di questa terapia che ha aumentato in maniera significativa l'aspettativa di vita di questa categoria di pazienti, che sono tante. Nel momento in cui l'attività terapeutica di questi farmaci è stata così spiccata, è stato, diciamo, ovvio cercare di individuare nuove modalità di somministrazioni del farmaco, che è un farmaco che deve essere somministrato per un anno intero. Quindi la ricerca di modalità di semplificazioni della terapia avevano delle grosse ripercussioni sulla maneggevolezza del trattamento stesso, perché è un trattamento che ogni tre settimane la donna deve fare per un anno intero. Da questo l'avvento, grazie all'enzima ialuronidasi, di trovare una modalità innovativa, ovvero sottocutanea, di somministrare un farmaco che altrimenti per via endovenosa richiede un lungo tempo. All'inizio, alla prima somministrazione, un'ora e mezzo, e dalla successiva, dalla seconda fino alla diciottesima, un tempo nell'ordine di 30-45 minuti. Quindi è abbastanza evidente quale sia la semplificazione in termini di tempo, di tempo da restituire alla vita stessa, tempo da restituire alla famiglia e ai figli e all'attività lavorativa. Una modalità per, diciamo così, contenere i costi, perché è evidente che la nostra paziente dovrà stare molto di meno in dei hospital, non avrà bisogno di essere accompagnata. Quindi ci sarà una sorta di risparmio indiretto da parte del familiare. E nel momento in cui noi parliamo di modalità organizzative in ospedale diverse, noi pensiamo quindi a una terapia che viene somministrata in un ambito diverso. Quindi liberiamo una postazione di terapia per un altro paziente, che probabilmente avrà un appuntamento più precoce e i tempi di attesa saranno ridotti. Per non parlare del fatto che queste terapie, così semplici nella loro modalità di somministrazione, riducono il tempo dell'uso del personale infermieristico e di tutti i presidi che sono necessari nel momento in cui noi parliamo di farmaci antitumorali che somministriamo per via endovenosa. È un cambiamento veramente epocale. Da uno studio ALTEMS, Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari, emergono dati estremamente positivi sulle tecnologie a misura di paziente. Professore, fermo restando la validità, il valore della terapia, però questa nuova somministrazione dal punto di vista dei costi e dell'impegno del personale sanitario cosa significa? Significa un grande sollievo da un punto di vista organizzativo, significa dedicare meno tempo alla somministrazione della terapia che non vuol dire dedicare meno tempo al paziente, perché il paziente viene in qualche maniera accudito in modo diverso e sicuramente più appropriato liberando anche il tempo del personale sanitario. Questo evidentemente permette di utilizzare questo tempo in maniera alternativa, di ottimizzarlo e quindi di conseguenza anche ridurre laddove possibile è necessario i costi dell'assistenza, che vuol dire anche dare spazio all'innovazione con quei possibili risparmi. E quindi la ricerca non è soltanto per nuovo farmaco, una nuova cura, ma a questo punto anche per un po' ridimensionare poi la spesa? Le innovazioni tecnologiche anche nel campo del farmaco evidentemente devono tendere al miglioramento delle terapie, su questo non c'è dubbio il valore terapeutico è l'elemento principale per definire quella che è innovazione. È però altrettanto vero che l'innovazione può avere anche carattere organizzativo e molto spesso sappiamo che attraverso una buona organizzazione miglioriamo anche le cure dal punto di vista dell'efficacia, esistono evidenze su questo. La conseguenza è che avere un'innovazione che migliora l'organizzazione comunque genera un vantaggio anche in termini di complessivamente appropriatezza ed efficacia del sistema. Insomma, si va avanti, non ci si ferma, si va avanti. Assolutamente, si deve andare avanti, si può andare avanti anche riconoscendo quelle innovazioni che non sono solamente, come dire, strettamente tecniche e tecnologiche ma anche organizzative. Oggi stiamo parlando di innovazioni organizzative che sono rese possibili grazie ad un'innovazione tecnologica all'interno di un farmaco. La somministrazione degli anticorpi monoclonali con formulazione sottocute non cambia l'efficacia del farmaco ma mute in modo notevole la vita dei pazienti. Rimane sempre lo stesso farmaco, sia dal punto di vista di sicurezza, di efficacia, ma cambia la modalità di somministrazione. Invece di una infusione che dura, talvolta, 4-6 ore, viene somministrato con una seringa di un volume di 11 cc e nel giro di 10 minuti. Così abbatte molto il tempo necessario sia per il paziente di soggiornare nel The Hospital, sia anche per gli operatori sanitari il tempo impiegato nella somministrazione della terapia. In un cambiamento forse quasi epocale per i pazienti che si dovevano sottoporre a chemioterapie e cure simili? Sicuramente sì, è un passo avanti nella qualità di vita per i pazienti, soprattutto i pazienti che fanno anche terapie prolungate. Alcuni pazienti fanno un mantenimento per due anni, vengono ogni due o tre mesi per la somministrazione della terapia, così anche riduce quella sensazione di continuare a fare terapie, di ridurre a un minimo il tempo dedicato alla cura e di continuare con la vita più normale. Oggi si parla di nuove terapie che permettono una miglior qualità di vita a chi ha avuto o ha un cancro, sollevando anche un po' la famiglia e i caregiver che sono attorno al paziente. Sì, certamente. Diciamo che per i pazienti il momento della terapia è un momento cruciale, perché è la circostanza in cui iniziano realmente ad affrontare la propria patologia. Quindi diciamo che sempre di più si rendono necessari di percorsi di cura che aiutino a andare incontro alle esigenze della paziente e chiaramente dei caregiver, cercando di donare sempre di più a queste famiglie un'autonomia ritrovata e quindi un bilanciamento nuovo dei ruoli della famiglia, perché purtroppo quando una paziente poi si ammala in terapia ovviamente deve essere accompagnata, insomma magari perde il ruolo di madre, moglie e quant'altro. Diciamo che quindi gli ospedali in primis, le strutture ospedaliere italiane, dovrebbero a nostro parere fornire anche dei percorsi di cura che siano sempre di più individualizzati e personalizzati sulle esigenze dei pazienti, tra cui ovviamente anche il risparmio di tempo. Quindi insomma benvenga la ricerca quando si riesce a migliorare la qualità di vita dei pazienti. Assolutamente sì e riteniamo anche che sia fondamentale che i pazienti siano sempre di più informati di tutte le alternative terapeutiche, delle opportunità proprio di cura oggi disponibili, ovviamente dovuti anche a queste innovazioni terapeutiche che abbiamo disponibili oggigiorno anche in oncologia. L'associazione, di solito si sa quanto siano importanti le associazioni, sono un punto di riferimento per i pazienti che non si sentono isolati. Però lei ha qualcosa in più, ha aggiunto un valore, perché non solo si cura di chi si preoccupa, di chi si rivolge all'associazione, ma lei porta anche un suo vissuto che è un punto molto positivo e di grande valore anche per i nostri amici telespettatori, perché lei ha passato sotto il ponte ed è qui, con il suo bel sorriso, il suo fisico eccezionale e quindi ringraziando la divina provvidenza, lei può dire che? Beh innanzitutto grazie per il complimento fisico eccezionale, una volta forse lo era, adesso un po' meno, però a parte gli scherzi, sì, io sono qui in un doppio ruolo, ha detto i lavori oggi, ma soprattutto di ex paziente, ex paziente trattato vent'anni fa con una quinta linea di trattamento, quindi quando le terapie erano un pochino diverse da oggi, io ho avuto un linfome, i linfomi vent'anni fa si curavano, io mi azzardo sempre a dire con il bastone e oggi con la piuma, quindi come dire, ecco, questo è il valore aggiunto di chi ha sperimentato sulla propria pelle della malattia e oggi lavora insieme ai pazienti. L'associazione che rappresento ha generato una roba un po' particolare, un poliambulatorio, no profit, quindi dove non chiediamo nulla ai pazienti, dove si erogano servizi in risposta ai bisogni che i pazienti portano con sé. Mi scusito, poliambulatorio ma dove? Brugherio, Monza, provincia di Milano, diciamo pochissimi chilometri da Milano, insistiamo in quel territorio, in realtà poi l'utenza arriva praticamente da tutta la Lombardia perché abbiamo certi servizi tipici che fanno in pochi, tipo la realizzazione del pavimento pelvico e quindi abbiamo persone che arrivano anche da lontano. Il valore aggiunto è appunto quello, essere insieme un team di specialisti che mettono a disposizione dei pazienti le loro professionalità in risposta ai loro bisogni, ma soprattutto con un punto di vista di chi c'è passato e quindi di chi ha sperimentato il problema, vedendolo da un altro punto di vista. Quindi la voce dei pazienti viene ascoltata? La voce dei pazienti viene ascoltata, dovrebbe essere ascoltata un po' di più, questa è una delle criticità, uno come me da vent'anni che ha convertito la propria vita e questa è diventata la mia professione a tempo pieno, mi sono dovuto mettere a studiare, la mia formazione non era medica, quindi dopo aver sperimentato la malattia mi sono dovuto mettere a studiare, oggi mi sento insieme a tantissimi altri italiani perché siamo un gruppo abbastanza numeroso, ci definiscono pazienti esperti, a me non piace questa parola perché crea sempre delle enormi aspettative, però così ci definiscono per rendere l'idea, forse siamo un po' poco, troppo poco chiamati a sedere sui tavoli di tutte le decisioni o perlomeno a volte lo siamo in una misura non adeguata a quello che invece potremmo in questo momento portare. Io dico sempre che le nostre trasmissioni sono informazioni di servizio, in questo caso penso proprio che fosse di servizio questa puntata di Pianeta Salute perché era un'informazione abbastanza importante. Grazie comunque per averci seguito, al solito per aver preferito di seguire Pianeta Salute e ci vediamo la prossima settimana. Grazie a tutti.